Non sono certo destinati a chiudersi in fretta le polemiche scoppiate dopo l'aggressione subita da due agenti negli uffici immigrazione della questura di Padova. La questione è sicurezza in quegli ambienti situati nel cuore della città e denunciata da tempo dai sindacati di polizia, chiamando in causa anche il comune per un intervento urgente. Il questore Paolo Fassari ha dichiarato che gli uffici immigrazione sono solitamente collocati in aree aperte al pubblico non riservate, alle quali non si accede attraverso un'identificazione e che alcune procedure non possono essere effettuate frapponendo un divisorio tra l'operatore e l'utente. L'FSP Polizia di Stato rimane abbastanza scettica su queste dichiarazioni del signor questore, che è una persona comunque che conosce il territorio a livello nazionale e sa benissimo che in altre questure e in altri ambienti c'è una sorta di sicurezza per l'operatore perché effettivamente non si sa con chi si ha a che fare, di conseguenza ci sono altre questure o altri uffici che hanno dislocato sia l'ufficio immigrazione in aree non vicine alla questura ma che comunque sono molto più sicure. Questure come quelle di Padova sono completamente inadeguate a svolgere un servizio simile. Resta il fatto di una situazione difficile nella quale l'aggressione compiuta dal nigeriano è solo la punta dell'iceberg. Questo non è stato il primo episodio, il soggetto in questione era stato già allontanato in passato perché era andato sempre lì a chiedere un qualcosa di non dovuto, in questo caso un'abitazione su cui soggiornare. Tuttora ci sono centinaia di utenti che si rivolgono in questura, quindi parliamo di 250-300 persone che giornalmente vengono in questura a chiedere il permesso di soggiorno, il rinnovo o quello che li compete e di conseguenza non può essere sicuro a fronte di qualche operatore che sta lì a tamponare l'esigenza. Grazie.